Quanto segue è ispirata a una storia vera. La storia vera è ispirata a una storia falsa. Te quanto c'hai? Niente. Non basta. Abbiamo casa, scuola, città. E la macchia. Così vive l'aria della tizia. La massa del merdi. Che divertente. Abbrou. Oh, non mi ripiego, mi via però. Eccolo. Quella cazzo di piscina, in quella casa del merda. Cominciate, va. Italiano, 10. Inglese, 10. Seconda lingua comunitaria, 10. Musica, 10. Arte e immagini, 10. Scienze motorie sportive, 10. Comportamento, 9. 6. L'altra parte. E qui? Oh. E qui? C'è la mano? Sì. E che dice? C'è la mano.